Signori, si chiude Fermi, siete sotto tiro Il museo è circondato Non avete scampo Vi conviene arrendervi Fermatevi Se tu accettassi di lavorare con loro Ci sarebbe da guadagnare molto E allora? Lei deve aiutarmi Lei deve aiutarmi L'auto segnalata si dirige verso la collina E' un ordine Sparate a vista Allora? E' stato deciso? Il colpo è per domani Sento! Riempi, sento! Sì, sì Sento! Sento! Più presto! Vatti sotto! Sento! 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 Grazie a tutti.